Ti do il benvenuto a Flamenco Chiavi in Mano. Oggi parliamo della scuola bolera. Ovviamente quando pensiamo alla danza in Spagna ci viene subito in mente il flamenco. Beh, a me sicuramente perché è la mia passione, però diciamo che anche chi non ne sa nulla di danza spagnola immediatamente ha in mente il flamenco. Ma in realtà in Spagna ci sono tantissime forme di danza e anzi quasi due secoli fa la situazione era molto diversa da oggi. Cioè il flamenco oggi è una danza molto articolata, molto diffusa e molto in auge. Ma un paio di secoli fa le cose andavano in un altro modo. All'epoca era molto fiorente la scuola bolera che ha preso tantissimo dalla danza classica francese e italiana. Tutte le accademie di danza frequentate evidentemente dalle persone ricche nelle grandi città spagnole e anche in Andalusia evidentemente offrivano corsi di scuola bolera. Le origini della scuola bolera cominciarono nel XVII secolo. Si sviluppò durante tutto il XVIII secolo, soprattutto nella parte sud dell'Andalusia ed ebbe il suo splendore massimo a metà dell'Ottocento. Ad un certo punto alla fine dell'Ottocento ebbe un declino piuttosto notevole, salvo poi ritrovare un periodo di auge nella seconda metà del XX secolo. Tant'è che oggigiorno nei conservatori la scuola bolera viene insegnata sempre come materia importante in Spagna. All'inizio dell'Ottocento i ballerini spagnoli di scuola bolera ebbero tantissimo successo in tutta l'Europa perché rappresentavano la novità rispetto al balletto classico romantico che ormai era già stato visto parecchie volte. L'influenza della scuola bolera sulla danza classica a questo punto divenne piuttosto importante, tant'è che per esempio la famosissima ballerina austriaca Fanny Esler si cimentò nella danza spagnola con le nacchere, suonandole nel modo popolare tradizionale, non quindi attaccate al pollice ma legate al medio, come si fa appunto nella cota e nelle danze popolari spagnole. Anche la famosissima ballerina Maria Taglioni si cimentò in una creazione coreografica che chiamò la gitana spagnola e grandi coreografi come Mario Spettipà hanno creato coreografie ispirate alla scuola bolera proprio per onorare questa forma di danza che per loro era nuova, rappresentava una specie di filiazione del balletto. La scuola bolera era una fusione di passi caratteristici di varie danze regionali spagnole. I generi musicali nella scuola bolera sono tanti ma è normale perché l'origine di queste danze e di queste musiche è da ricercarsi un po' in tutta la Spagna quindi è normale che le danze siano parecchie. La scuola bolera richiede forza, agilità, elasticità, ci vuole una muscolatura davvero ottima, fiato, resistenza e quindi ci vuole una preparazione, un allenamento costante e non ha niente a che vedere dicono i maestri per i set con la rigidità che a volte la danza classica impone. Purtroppo rappresentare questa forma di danza è difficile perché richiede una preparazione fisica, tecnica e delle competenze che quasi nessun danzatore ha. Non è certamente stata una danza popolare. Le seguidiglias boleras erano sicuramente una danza di origine folcloristica e si tramutarono nel famoso bolero grazie all'opera di un danzatore, Sebastiano Lorenzo Cereso. Formandosi alla corte di Napoli portò nella scuola bolera veramente delle movenze della nascente danza classica italiana. Stiamo parlando ancora della seconda metà del Settecento. All'inizio il bolero veniva danzato da una coppia di ballerini, poi ad un certo punto su copia degli spettacoli teatrali che erano molto sontuosi di balletto, anche nel bolero vennero aumentati i danzatori fino a raggiungere addirittura 16 danzatori invece di due. Lo sfarzo e l'esagerazione dovevano essere importanti proprio perché si trattava di una forma di danza dedicata ai nobili. In realtà probabilmente questa stilizzazione della scuola bolera le tolse anche quel piccolo carattere più andaluso e più pepato che poteva avere, per cui divenne sicuramente più astratto e anche un po' più moralista. Lo scopo proprio deliberato era quello di far concorrenza al flamenco e di imbellettare la danza in modo da renderla il più lontana possibile dalla danza spontanea dei gitani e quindi i maestri di scuola bolera hanno preso i movimenti del flamenco, le movenze del flamenco, lo stile del flamenco, aggiungendo le nacchere e stilizzando tutti i movimenti. Nel frattempo altri danzatori catalani si recarono a Parigi e anche lì studiarono la danza classica pariglina e riportarono all'interno della scuola bolera spagnola elementi della danza classica di scuola francese. Da qui arrivarono dei movimenti in ginocchio con la schiena molto inarcata, molto vistosi, molto evidenti, molto teatrali appunto. Fra l'altro una di queste ballerine a Parigi è stata più volte ritratta da Degas quando dipingeva appunto le sue ballerine ed era famosa con il nome di Rosita Mauri, in realtà si chiamava Rosetta Mauri ed era catalana. Parlando della scuola bolera non si può assolutamente fare a meno di nominare la saga dei perisette, danzatori e maestri che hanno diffuso le danze della scuola bolera davvero tantissimo. Un'intera famiglia il capostipite Angel Perissette Carmona nacque nel 1877 ad Aguilari della Frontera che è in provincia di Cordova. La madre ben presto lo portò a studiare a Siviglia nella rinomata accademia di Amparo Alvarez, la famosa campanera. La scuola poi ad un certo punto chiuse e la formazione di Angel continuò in un'altra accademia, l'accademia di Segura. Ancora molto giovane decise di aprire la sua accademia personale a Siviglia insieme con il fratello Rafael. Accanto ai corsi i due cominciarono a fare anche spettacoli. L'attività crebbe molto bene e tutta la famiglia venne coinvolta, il capostipite della dinastia appunto Angel Perissette Carmona. Ad un certo punto nel 1925 si trasferì per un periodo in Venezuela proprio perché doveva fare spettacoli e tournée nel paese mentre il fratello Rafael continuò a Siviglia perciò la scuola continuava a rimanere aperta. Nel 1932 Angel ritorna a Siviglia, fonda nuovamente la sua scuola personale che lascerà però ben presto al suo stesso figlio Angel Perissette Jiménez e si trasferisce lui stesso a Madrid. Angel Perissette Jiménez, il figlio, insieme con il padre scrivono ad un certo punto un manuale molto importante, Tecnicas, Passos y Aprendizaje della Scuola Bolera. È l'unico testo che comprenda tecnicamente i passi della Scuola Bolera. È una specie di Bibbia della Scuola Bolera. Tutti i nipoti di Angel Perissette Carmona diventarono danzatori, alcuni proseguirono l'attività per tutta la vita e altri si fermarono prima. Comunque tutti danzarono. Tra i figli di Angel Perissette Jiménez e la figlia Luisa aprì un'accademia di Scuola Bolera a Buenos Aires, molto famosa. L'ultimo Angel Perissette, nipote del primo Angel Perissette e figlio del secondo, fu l'ultimo maestro importantissimo della dinastia. Tra gli allievi della Scuola Perissette negli anni ci sono stati dei ballerini importantissimi, tra i quali anche delle figure assolutamente salienti della storia stessa del flamenco. Partendo dai più antichi, Antonio e Rosario uscivano proprio dalla Scuola Perissette. Pilar Lopez, lo stesso Antonio Gades, Enrique El Cojo, a cui dedicherò un discorso molto speciale in un altro podcast. José Antonio e più recentemente Antonio Canales, Antonio Marquez, Aida Gomez. L'eredità di questa famiglia viene portata avanti nel centro andaluso di danza in un'aula dedicata, si chiama appunto Aula Perissette, proprio dedicata all'insegnamento della Scuola Bolera ai giovani professionisti. Il repertorio della Scuola Bolera si basa essenzialmente su due tipi di tecnica diversi, i cosiddetti bailes boleros e i cosiddetti bailes de palillos. I bailes de palillos si interpretano con le nacchere e con delle scarpe con un po' di tacco con cui si è soliti dare dei colpi al suolo, quindi sapateare. Le calzature appunto utilizzate per la Scuola Bolera con questi piccoli tacchi vengono chiamate chapines. Sono delle scarpe chiuse con un po' di tacco e delle stringhe, mentre i bailes boleros sono più saltati, con giri molto complicati e gambe che fanno cose super difficili, che vengono molto dalla danza classica appunto, intrecci cose davvero tanto difficili. Questo tipo di danza è molto bella esteticamente e quindi è stata venduta tanto in tutto il mondo, soprattutto in America Latina. La Scuola Bolera è realmente ciò che racchiude tutte le forme di danza spagnola, che è nata dalla codificazione di passi di danze popolari, imbellettati appunto con la danza classica. La differenza grossa tra la Scuola Bolera e la scuola del balletto francese sta nel fatto che il balletto francese dipende direttamente dal re di Francia, mentre la Scuola Bolera non è un balletto di corte del re di Spagna. Quindi questa è una grande differenza, però i movimenti sono molto simili e tecnicamente i movimenti della Scuola Bolera sono molto influenzati dalla tecnica del balletto classico. A differenza però della danza classica nella Scuola Bolera si usano appunto le nacchere, bastoni, tamburelli, cioè tutto quello che viene da un folklore regionale tradizionale spagnolo. La parte superiore del corpo fa movimenti molto molto ampi, la schiena si inclina in tutte le direzioni, anche in torsioni e flessioni davvero notevoli, cose che normalmente nella danza classica non sono così esagerate o così vistose. nella Scuola Bolera ci sono appunto affondi molto energici, posizioni in ginocchio molto frequenti che sono lontane dalla estetica della danza classica romantica di stile francese. Si rifà moltissimo alle seghidiglias della regione della Mancia come forme di danze tradizionali, regionali. Il termine seghidiglias viene dal verbo seguir, seguire, continuare e quindi indica che le seghidiglias erano una sequenza di danze e di musiche e venivano utilizzate proprio in questa sequenza come sistema per insegnare una tecnica, una tecnica di movimento. Nell'essenza tradizionale delle seghidiglias mancegas, appunto delle seghidiglias della Mancia, c'è qualcosa che ci ricorda molto da vicino le sevillianas, se le conosciamo. D'altra parte, anche le sevillianas sono originariamente seghidiglias, seghidiglias sevillianas infatti. E anche le sevillianas nascono da un'origine popolare, su questo ritmo incalzante di tre quarti o sei ottavi, che si insinua proprio profondamente nell'orecchio di chi le ascolta e invita proprio assolutamente alla danza. Ogni seghidiglia è composta da un ritornello e da delle strofe. I passi nel ritornello sono sempre gli stessi in ogni seghidiglia e quindi ciò che cambia sono i passi che vengono fatti durante le strofe, esattamente come avviene nelle sevillianas. L'ipotesi più accreditata sul nome bolera è che in realtà sia una deformazione della parola volera che viene dal verbo volar. Sappiamo che nella lingua spagnola la lettera B e la lettera V sono molto simili tra di loro e spesso le persone le confondono, proprio le fondono insieme. La danza bolera infatti vola perché è piena di salti, le gambe spesso salgono molto come nella danza classica. Ci sono salti molto piccoli, molto delicati, però continui, che esprimono leggerezza, grazia, eleganza e tantissima energia. Sono Sabina Todaro, mi occupo di flamenco dal 1985. Ho viaggiato moltissimo in Spagna e più volte mi sono incrociata con le danze bellissime della scuola bolera. Nella mia formazione ho vent'anni di balletto classico, quindi quando sono arrivata al flamenco ero molto affascinata da qualcosa che era molto lontano dal balletto classico, che stavo ancora studiando quotidianamente come è normale fare quando ci si vuole affacciare al professionismo della danza. Perciò quando poi incontrai la scuola bolera mi resi conto che era troppo simile a ciò che io avevo studiato e per un breve periodo lo studiai anch'io e quindi mi cimentai in questi salti, nell'uso delle nacchere, nel fare questi movimenti inclinati lateralmente, indietro, che erano molto ampi e molto belli da vedere sicuramente. Ma la mia passione non era nei confronti della scuola bolera perché probabilmente altrimenti, se così fosse stato, avrei continuato a studiare danza classica, cosa che non ho fatto. Ad un certo punto della mia vita ho infatti interrotto. Credo che la maggioranza dei danzatori importanti della storia del flamenco degli ultimi 40, 50 o forse 60 anni abbiano al loro attivo studi di scuola bolera. Magari non hanno approfondito tantissimo perché la loro scelta comunque ricadeva sul flamenco e non sulla scuola bolera, però nelle loro movenze si nota che conoscono molto profondamente questo argomento. Ma su alcuni danzatori questo background di scuola bolera si vede ancora di più. Mi viene sempre in mente una bailaora flamenca molto brava che è Olga Perisette che vistosamente ha nelle sue corde tantissima scuola bolera. Fra l'altro chissà se Olga Perisette viene dalla famiglia di Angel Perisette Carmona. Un'altra ballerina importantissima, Rossio Molina, anche lei ha nelle sue movenze tantissima scuola bolera, anche se poi l'ha completamente accantonata nelle sue coreografie, ma si vede chiaramente che il suo corpo l'ha masticata tanto. Per capire di che cosa si tratta ci basterà cercare su youtube qualche video scrivendo Esquela Bolera. Il primo video che vi uscirà probabilmente sarà già significativo, almeno per farsi un'idea di che cosa sia. Si tratta di una danza bellissima, esteticamente super elegante, super interessante, che però non ha niente a che fare con il flamenco, in realtà con la profondità espressiva del flamenco. Il comune con il flamenco ha semplicemente delle forme, delle sonorità musicali a cui fa riferimento, evidentemente per una questione di coincidenza geografica, almeno parziale, e sicuramente una forte energia vitale nel movimento. Ma nella scuola bolera non c'è la profondità emozionale che c'è nel flamenco. La scuola bolera non si addentra ad esplorare delle emozioni come potrebbero essere la tristezza, il dolore, delle emozioni forti che invece il flamenco esplora e come. Diciamo che imparare alcuni movimenti di scuola bolera o avere un training di scuola bolera può aiutare un ballerino flamenco a creare dei movimenti più lineari che forse arriveranno anche all'ultimo spettatore seduto nell'ultima fila di un grande teatro. Non nego infatti di essere contenta di averne studiato almeno un po', però ricordiamoci che l'essenza del flamenco non sta in una tecnica che viene dalla danza classica, che viene da un'estetica, che viene dal fatto di spingere il corpo oltre quelli che sono i movimenti naturali di una persona comune. È vero che il flamenco può essere una danza super difficile portata ad un livello molto molto alto che richiede un training fisico, un allenamento, fiato, elasticità, agilità, resistenza e tutta una serie di cose, ma è anche vero che i movimenti del flamenco sono dei movimenti naturali, quindi non esistono nel flamenco gesti così ampi che non possano essere eseguiti da una persona comune. Questo voglio dire, mentre nella scuola bolera le gambe si alzano tanto in alto come nella danza classica o giù di lì, si salta, le gambe sono girate molto verso l'esterno, le caviglie sono sempre estese al massimo delle loro possibilità. Sono movimenti che richiedono un training specifico che per l'appunto, come ho ripetuto più volte in questo podcast, non era sicuramente quello della danza della gente comune, ma certamente quello di una danza di scuola, di una danza quindi dedicata alla gente ricca.